Spazio Porto ha celebrato il ritorno del Taranto Football Club tra i professionisti con un evento organizzato in collaborazione con lo storico sponsor Rosso Blu Birra Raffo. Una delegazione della squadra composta da Marsili, Tissone e Sposito insieme con parte dello staff tecnico. La serata è stata impreziosita da Franco Cosa con le sue note, Affari del Nore di Casa, Mimmo Battista, rappresentanza di Spazio Porto, nuovo contenitore culturale in zona Croce Porta Napoli. L'occasione è servita anche per premiare Capitano Massimiliano Marsili come calciatore rosso-blu dell'anno. Era tantissimo che sognavo un campionato così e vincere un campionato qui a casa. Sono felice e orgoglioso di tutto questo, ci godiamo ancora per poco questa promozione e poi vedremo cosa succede. Un traguardo personale perché ovviamente mai avrei pensato nella mia vita di poter fare una roba del genere, quindi mi ritrovo nella doppia veste di tifoso e di organizzatore, ma prima di tutto tifoso, comunque è un sogno che per me si realizza.